Dal 7 al 9 febbraio la Stato della Madonna di Loreto e il Crucifisso di San Damiano hanno fatto visita alla nostra diocesi, un'iniziativa organizzata dalla Pastrale Giovanile Diocesana e regionale. Nella serata di domenica 7 febbraio i simboli della giornata mondiale della gioventù dei giovani italiani sono arrivati a Cagli e attorno a questi i fedeli si sono raccolti in preghiera, contemplando nel significato e pregando per i nostri giovani e non solo. Sono simboli prima di tutto dei due misteri centrali della nostra salvezza, il mistero dell'incarnazione e il mistero pasquale. I giovani italiani dunque in ogni luogo hanno portato Gesù, che spogliò se stesso divenendo simile agli uomini nella casa di Nazareth e si umiliò fino alla morte di croce. In questi due misteri di morte e di vita, simboleggiati dalle nostre due care immagini, desideriamo far sentire ad ogni giovane del mondo lo sguardo dolce e misericordioso del Crucifisso risorto. Nella mattinata di lunedì 8 febbraio, il Crucifisso di San Damiano e la Stato della Madonna di Loreto hanno fatto tappa all'ospedale di Pergola, dove il Vescovo, dopo la visita agli ammalati, ha celebrato l'eucaristia per tutti i pazienti e il personale davanti alle due immagini. La giornata è poi proseguita con la visita alle ragazze di Casa Serena di Bellocchi, con un bel momento di preghiera e di animazione. I simboli poi hanno proseguito il loro viaggio nella serata di lunedì, facendo tappa nella parrocchia di Lucrezia, dove insieme ai tanti giovani e alla comunità presente si è vissuto un momento di preghiera e di adorazione della croce. Nella mattinata di martedì 9 febbraio, il Crucifisso di San Damiano e la Stato della Madonna di Loreto sono entrati nella casa circondariale di Fossombrone, un momento che ha visto la presenza di una quarantina di giovani della diocese, alcuni sacerdoti della vicaria di Fossombrone, del cappellano del carcere Don Guido Spadoni e del Vescovo, che non ha voluto mancare a questo appuntamento. Nel pomeriggio i simboli sono arrivati a Fano dopo un breve pellegrinaggio per le vie del centro storico e si sono fermati nella chiesa di San Tommaso. Dopo la messa celebrata con i giovani, il pellegrinaggio diocesano di queste due immagini si è concluso con la consegna presso il santuario del Pelingo all'Arcidiocese di Urbino, che continua in questo cammino verso la prossima GMG di Cracovia.